Bene, sì, tre anni fa sono nati dei gruppi dal blog, noi siamo un blog che grazie a voi, il blog, io ci ho messo la faccia, ci ho messo la mia reputazione, mi hanno scardinato, hanno detto qualsiasi cosa sulla mia vita, sui miei amori, sui miei figli, sul mio passato, hanno detto di tutto e continuano a farlo, non ce la fanno, io sono un uomo di 60 anni, con una vita che ho avuto di 60 anni, ho avuto un paio di famiglie, meno di casini, cazzo devo fare il family day, che cazzo vuole? Allora, ho una vita, ho sei figli, ho una vita ingazzinata, ma aperta, non ho niente da nascondere, è nato un blog, ci ho messo la mia reputazione, la mia faccia, è nato un blog che grazie a voi oggi è il settimo, ottavo blog nel mondo, su 140 milioni di blog, la nostra voce, la nostra voce arriva al tutto il mondo, è stato l'azienda, e da questo blog sono uscite idee, mie, vostre, abbiamo fatto forum, chat, ci siamo fusi una con l'altro, io prendo battute da voi, prendo battute da voi e voi le prendete da me, c'è una fusione totale, non riesco a rispondere a tutti, facciamo chat, facciamo forum, mi dicono di tutto, accetto tutto, ma da questo blog è nato il braccio, il braccio fisico, da noi molecole del ciberspazio, sono nati in mità su questi gruppi di incontro, che oggi in 450 piatti d'Italia raccolano le firme insieme a noi. riscr許!